ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easy arp allora oggi vi propongo un altro disco da ascoltare magari molti di voi già lo conoscono ma probabilmente altrettanti lo ascolteranno per la prima volta allora sto parlando di arp attack arp attack è un bellissimo disco dove suonano quattro super armonicisti jane scotton junior wells caray bell billy branch quindi chicago blues chicago blues elettrico inizio anni 90 se non sbaglio proprio 1990 mi rendo conto a distanza che in inizio degli anni 90 è stato un periodo molto florido per la discografia dell'armonica dell'armonica blues chicago blues tutti i vari sviluppi di quel periodo la musica sicuramente era già evoluta ma in quel periodo essere lasciata un'impronta molto molto importante a livello proprio di registrazioni e di album e in particolare l'etichetta è la alligators tutto ciò che trovate sotto alligators sicuramente e musica di qualità quindi tanti pezzi da ascoltare il disco registrato in studio ma un'impronta abbastanza live quindi molto piacevole l'ascolto tanti begli assoli di armonica con stili diversi posizioni differenti sentirete anche la cromatica insomma un ottimo spunto per riempire le nostre orecchie di ottima musica perché ascoltare blues armonica blues è sicuramente fondamentale e indispensabile per migliorare anche nelle nostre frasi dobbiamo nutrirci attraverso l'ascolto di ascolto dei dei grandi maestri dei di bei dischi da ascoltare sicuramente più ascoltiamo blues suonato attraverso l'armonica sia in acustico che in elettrico è più ci verrà facile e naturale magari provare a improvvisare delle frasi con un sapore blues insomma entreremo sempre di più nel linguaggio ok allora mi raccomando questo disco se non l'avete già ascoltato ascoltatelo lo trovate per intero qui su youtube art attac un disco che sicuramente non può mancare nella tua collezione di dischi di armonica blues bene questo video di oggi spero che ti sia piaciuto magari lascia to like se non sei iscritto al canale iscriviti e fammi sapere nei commenti se conoscevi già questo disco se l'hai scoperto attraverso questo video ma soprattutto cosa ne pensi ok bene un saluto a tutti e ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con easy harp take it easy take it easy harp ciao ciao